Ho viaggiato in queste antiche terre dimenticate e ho questi due poveri bambini imporre le proprie mani su questo cristallo magico che ha il valore di mille monete d'oro e l'ultimo a togliere la mano lo vincerà Ah, quell'oro è già mio! Ma sei serio? Non toglierò mai la mano da qui! Ora, ho dimenticato di aggiungere che quel cristallo è imbevuto di un maleficio succhianima Ehm, cosa? Ma prima! Ho resuscitato questo dio del fuoco di 10.000 anni e ora vediamo cosa succede quando attaccherò questo villaggio decrepito Ed ora torniamo al cristallo Oh, non riesco a togliere la mano Sì, neanche io Non ti lascerò vincere No, intendo letteralmente Oh, wow, la situazione si fa eccitante Commentate qui sotto Mister Beast, la prego, accetti la mia richiesta Mio figlio è sparito tre anni fa Ho bisogno che qualcuno Ho salvato il figlio di questo uomo anziano Wow, è stato molto rapido Non posso credere che... Ed ora dovrà passare 30 giorni in questo cerchio rosso per avere la possibilità di vincere una valigetta piena d'oro Sembra che dovrà spendere più tempo del previsto Ora ritorniamo a quel cristallo Ciao, ciao! Ciao, ciao! Grazie a tutti.